Questo programma è offerto da Tre Colli Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Tutta Bici Si chiude un'altra settimana di programmazione Questa sera abbiamo ospiti gli amici del Chirio Forno d'Asolo Ma nonché del Nuovo Ciclismo, che è una società giovanile Che da quest'anno, anzi dall'anno scorso, ha questa collaborazione con la Chirio Forno d'Asolo Gli ospiti ve li presento iniziando subito da Simona Ciaudano Che è il direttore sportivo della categoria giovanissimi, quindi dei bambini Della Nuovo Ciclismo e Franco Chirio, che ormai conoscete benissimo Che è il team manager della Chirio Forno d'Asolo Non dico con la vita, perché con la vita, quando mi confermerai se con la vita sarà ancora con te Il resumo di sì Adesso diciamo che siamo in fase un po' ancora di organizzazione Vabbè, però tu qualche indicazione l'hai già data Perché c'è stata una cena recentemente a Italy E tu lì hai già speso qualche parola Abbiamo detto il numero delle ragazze che ci saranno Perché quelle almeno ci sono Perché diciamo che l'iscrizione ufficiale è per l'Unione Ciclistica Internazionale Quindi per quanto riguarda poi dopo vediamo poi tutto quello che è la programmazione che farai Perché intanto poi bisogna vedere i calendari Ma intanto qualche indicazione tu l'hai già data Simona invece, allora, tu ti sei dedicata da sempre al ciclismo E hai scelto di guidare questi bambini, di prepararli Perché? Come sei arrivata a questo? Dunque, la mia scaletta prima di tutto è che la passione del ciclismo è nata a parte per lo sport La passione del ciclismo posso dire grazie a mio figlio Rodolfo Che da quando era piccolo voleva cominciare ad andare a provare questa bici da corsa È sempre stato innamorato di questa bici da corsa Grazie al nonno che l'ha instradato in questa strada Ad Asti non c'era nulla quando lui è iniziato a sei anni a formare il G1 Dove si parte, voglio dire, per quanto riguarda l'attività sportiva Quindi siamo andate a Caneglia, al pedale canellese Abbiamo fatto un anno da G1, poi per questioni logistiche perché noi siamo di Asti Abbiamo avuto contatti e contattato i signori riverditi Che hanno sempre avuto da dieci anni questa squadra del nuovo ciclismo E ci siamo trasferiti ad Asti perché noi abitiamo ad Asti E quindi abbiamo proseguito questa bellissima avventura ad Asti Con Marita e Sergio Riverditi Che sono due persone che ci hanno accompagnato già dall'anno scorso In maniera esemplare, assolutamente Ci stanno vicino, ci hanno aiutato E credono in questo bellissimo progetto a livello maschile Loro è da dieci anni che fanno questa attività di ciclismo Grazie alla loro figlia che è Stella Riverditi Dove è iniziato anche lei da G1 E ha proseguito questa bellissima carriera tuttora Coronando il campionato italiano a cronometro E passando quest'anno la squadra professionistica Quindi questo connubio maschio e femmine Perché i maschietti non li avevano ancora Siamo arrivati noi e questa collaborazione ci ha fornito Questa voglia di andare avanti, di crederci E di avere un obiettivo comune Di arrivare come tutti gli sport A coronare il nostro sogno È vero divertirsi, insegnare e andare in bicicletta Però insomma lo sport è il sacrificio E si ha un obiettivo per andare avanti E quindi questa passione è nata così Continua E continua E continua E continua Franco, la famiglia Riverditi Sergio, Marita Insomma sono legate al mondo del ciclismo Anche per l'attività dei loro figli Che sono tutti portati verso il ciclismo Sì, diciamo che la strada è stata breve Perché Asti e Alba Diciamo che siamo vicini Poi ci conoscevamo E poi a un certo punto Ci siamo così parlati E abbiamo anche pronosticato il futuro per la Stella Perché chiaramente la Stella ormai era Juniors E doveva passare in una squadra Una squadra che fosse Elite E diciamo che forse era meglio che venisse con noi Perché oltretutto siamo vicini E diciamo che io te l'avevo già spiegato una volta Il problema del ciclismo femminile È un po' che magari una ragazza È magari esempio di Alessandria E vuole andare a correre con una squadra di Treviso E allora se è di Alessandria È meglio che magari cerchi una squadra di Piemonte Perché corre il rischio di non correre quasi mai Loro intelligentemente hanno avuto questa visione E ci hanno proposto di unirsi Cioè diciamo unire la squadra Juniors E poi strada facendo è venuto fuori questo binomio Anche per i giovanissimi Che gli ho detto perché no Perché magari c'era uno sponsor di qui Uno sponsor di là Ho detto vabbè unifichiamo Almeno i colori della maglia Io ho sempre quell'esempio mio Di 18 anni fa Quando avevo cominciato con i giovanissimi Con la Ghevis di Bombini E ho detto perché no Diamo gli nostri colori Almeno così è sempre un motivo in più Anche una visione in più per gli sponsor E così è venuto questa collaborazione Loro hanno conservato i loro sponsor Perché loro hanno un ottimo rapporto con la regione Piemonte E hanno conservato il loro marchio della regione Piemonte E diciamo sulla maglia che voi vedete dei giovanissimi qui Dei ragazzini Praticamente loro non hanno il marchio delle nostre biciclette Perché in quanto loro non hanno un contratto come noi Di dover usare queste biciclette americane Allora nei giovanissimi poi ognuno usa la propria bicicletta I giovanissimi le biciclette è un po' E' inutile dire Prendiamo le biciclette da una data ditta Che poi i giovanissimi hanno delle misure particolari Bisogna fargli la sua misura E così noi non Ecco diciamo il quadro che Ecco però i ragazzini che arrivano da voi Hanno le loro biciclette Hanno le loro biciclette Hanno le loro biciclette Nei giovanissimi Sì perché a star lì a prendere biciclette A parte che poi se le passano da uno all'altro Crescono e io sono sempre dell'idea Che bisogna fare piccoli passi alla volta Se diamo già in mano a dei ragazzini Dei giovanissimi delle biciclette Da professionisti No no ma hanno assolutamente Cioè non hanno senso No una volta c'era la federazione Che alle società regalavano biciclette Qualche biciclette aiuta Che voi Qualcosa sì Poi magari ci sono dei ragazzini Dei bambini che vogliono provare È giusto dargli una bici da provare Perché magari la usano due volte E poi non vogliono più continuare Allora boh Cioè non Invece noi è tutto un altro discorso Con la storia biciclette Ecco è facile trovare ragazzini Che vanno in bici Oppure diventa sempre più difficile Qui noi vediamo delle immagini Dove ci sono partenze con Parliamo di 70-80 bambini a gara Cioè questa è una manifestazione Che vada ormai da tantissimi anni A Ruffia Che organizza Italo Zignoli Quindi qui abbiamo il fiorfiore E tutto quello che è il settore giovanile Esatto Ci sarete state anche voi Assolutamente sì 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 È una tappa fondamentale Del nostro percorso Per quanto riguarda Le varie gare Che disputiamo tutte le domeniche A livello piemontese Le batterie grosse Non sono così numerose Nel senso che ci sono Ma il numero viene molto Noi abbiamo corso quest'anno Anche parecchio in Lombardia E vabbè La regione è indubbiamente più Altri numeri Altri numeri Esatto Di 50-60 bambini È già un bel vedere Senti Sivona Penso che non sia calato Da quando abbiamo cominciato noi Perché io vedo Ne vedo abbastanza Noi quando No no calato Il gruppo c'è sempre C'è un bel numero E anche le società Io ho visto che Ad esempio Questa La società della famiglia Riverditi Allora non c'era È una società nuova Certo Ad Asti Quella dei Teneroni Quella di Bortolato Cioè sono tutte società Che sono stanno rigando Sono nate Ultimamente Noi quando c'eravamo noi C'era solo il pedale canellese La castagnolese La quese Noi abbiamo cominciato Con la castagnolese Poi c'eravamo noi E basta Però adesso Mi sembra un bel gruppo Di squadrette Simona come sei arrivata Alla carica Di direttore sportivo Perché insomma Ci sono delle Delle tese L'esame da sostenere Insomma Vari passaggi Ma è nato Beh io in due anni Ho affrontato Il corso a primo livello Il corso a secondo livello E ho affrontato quest'anno Il corso a terzo livello Per completare A livello di crescita Tutto un percorso Prima di tutto Personale Per quanto riguarda Il sapere Cosa si insegna E per capire Questi ragazzini A livello sia Meccanico Sia a livello Fisico Sia a livello mentale E soprattutto Anche a livello Di prestazioni Per quanto riguarda Allenarli Sia da piccolini Da esordienti Allievi E poi passare A le meraviglie A le categorie A le categorie Voglio dire internazionali E niente Quindi ho affrontato Questo percorso qua Proprio per sapere Il calo Il calo O vanno avanti O vanno avanti Perché ci credono Perché comunque Al di là dei risultati Comunque ci credono E vogliono fare sacrifici Perché quello è O abbandonano Questo è un po' tutti gli sporti Ma il ciclismo È veramente sacrificio Però come li trovate Questi bambini Al di là di quelli Che sono i vostri Che possono essere Da traino Per altri amici Noi rispetto al nostro corso Quest'anno La squadra Sta aumentando Notevolmente Abbiamo avuti molti contatti Tramite le persone Che vogliono fare ciclismo Mi hanno contattato Vogliono cercare Di affrontare Questa stagione Abbiamo già Al prossimo anno Altri ragazzini Un 3 G6 Una ragazzina Due ragazzine piccole Che saranno poi G2 Quindi hanno 7 anni Vogliono cominciare A fare ciclismo Ma la cosa bella Che mi contattano E contattano Il mio collaboratore Che è Cavallo Sandro Che è l'alto direttore Sportivo Mi contattano Perché hanno proprio voglia Cioè non è che Mi contattano dicendo Non so cosa fare Non so cosa fare Come diceva Sì faccio No Perché comunque io a priori Ecco il corso Cosa serve anche A priori lì si spiega Che cos'è il ciclismo E cosa si va incontro Perché vai su strada È un mezzo meccanico Che devi imparare Beh ovviamente C'è tutta una serie Di correlazioni Scuola Gioco Però il bello È che comunque C'è la passione di farlo Quindi quando incontri Queste persone qua Che ti fanno Lavorare Perché poi comunque Il direttore sportivo L'allenatore È lui Come in tutti gli sporti Ma deve essere preso Come punto di riferimento È piacevole questa collaborazione Tant'è che stiamo crescendo Beh questo sicuramente Perché lavorate bene Bene se fermiamo un attimo Un attimo Un attimo E ritorniamo subito Eccoci qui Nuovamente insieme Allora Simona Con questo tuo Titolo di terzo livello Che hai conseguito Cosa potresti allenare Puoi arrivare Fino al professionismo Con questo Sì Fino a livello Categorie internazionali Categorie elite E internazionali Per quanto riguarda Il professionismo A livello maschile C'è ancora un passo da fare Che non è chiamato Quarto livello Ma comunque una Un completamento Ma ti interessa quello Non sarebbe male Che una donna Che faccia il direttore sportivo Di una squadra maschile Non sarebbe male Eh Vabbè insomma Di aprire un bel varco Insomma Senti Franco Quando si parla di bambini Cioè si ritorna indietro Con la mente No? Ritorna indietro agli inizi Insomma sei ancora legato con Beh i bambini Certo che fanno simpatia Io prima in macchina Ero con Marco Il bambino del collaboratore E facevo qualche domanda così E ti porta indietro Di un po' di tempo Per quello che riguarda Guarda qui vediamo Delle vecchie foto Qui siamo proprio agli albori All'inizio tuoi No? Ancora con la maglia Della Ghevis Qui era Forse Alessia lì Che adesso fa la segretaria Da noi Della squadra Questa qua Quindi ti ritorna in mente Ti ritorna in mente Quei momenti lì o Beh non Diciamo che ecco Qui era La selezione Piemonte Per I campionati italiani Qui era Marina Chirio Campionato Regionale Di ciclocross Ma tu ti sei avvicinato Il ciclismo Perché tua figlia Voleva fare ciclismo O glielo hai fatto fare tu Perché Ma diciamo che Per me il ciclismo È sempre stato In famiglia C'è sempre stato Poi loro volevano Marina voleva correre E voleva fare le gare Allora ci siamo interessati Ci avevano presentati In una coppa cittadiasti Delle tante Ci avevano fatto conoscere Questi signori Del pedale canellese Mi ricordo Gli Aliverti E abbiamo parlato Un po' con loro Abbiamo provato un po' E poi Siamo andati a correre Per Diciamo il primo anno Con la Pedale castagnolese Poi l'anno dopo Vedendo un po' le cose così Sai io non riesco mai A star fermo Ci siamo organizzati E abbiamo fatto una squadretta Noi La prima squadra E da lì abbiamo cominciato E qui ci sono delle bimbe Che saranno già signorine Adesso E qui siamo indietro Di parecchio Qui è una ragazzina Di Aosta E la Marina E così abbiamo cominciato Poi in quel tempo Abbiamo fatto così L'abbinamento Con la Ghevis Di Bombini L'ho già detto Diverse volte E qui Poi questo è Il finale Il finale Dove sei partito L'anno scorso Con il campionato del mondo Il secondo campionato del mondo Della Giorgia Abbiamo riassunto in anche un minuto La storia della Chirio Da quando è nata Con i giovanissimi Alla Branzini Che vince il mondiale a Copenaghen Riallacciandomi al discorso Che facevate prima Con la Simona Diciamo che la formula giusta Sarebbe proprio Di cominciare presto Con questi bambini Perché come tutti gli altri Sport Con il nuoto Si comincia sempre da piccoli Ci sono delle eccezioni Che dei corridori Come Tony Rominger Adesso non mi viene in mente Altri Hanno cominciato tardi I risultati Ci sono tanti Che hanno iniziato tardi Però io penso Io penso Che questi bambini Se cominciano da piccoli Ma se non vengono Torturati dai genitori Da piccoli Che loro la prendono Come un divertimento Che stiano solo vicino Alla bici Non hanno bisogno Di fare delle prestazioni Non hanno bisogno Di fare dei risultati Perché tanto loro vanno Per ritrovarsi Con quelli di quella squadra lì Con quelli di quella squadra lì Diciamo che per loro Sentono solo quello Poi l'agonismo viene Ma viene più avanti Vedi che simpatia qui Guarda queste Sono sempre uguali I giovanissimi Alessia L'altro giorno Quando registrava Questo filmato Ha detto Guarda I giovanissimi Sempre uguali Pedalano come dei motorini elettrici Vedi Sembra incredibile Che possa Anzi C'è un filmato Di un bambino Di loro Che sulla pista Di San Francesco Al campo Mi sembra Che abbia fatto Tre giri Della pista Senza sedersi Sulla sella Cosa incredibile Cioè Se glielo fai fare Un'agilità così La fai fare Un professionista E' sicuro Che vince il campionato Eccolo qua Eccolo qua Te lo ricordi Non tocca la sella E' mio figlio Questo è Riccardo Non tocca la sella Tre giri Non tocca la sella Un pistare Beh Una disciplina Anche questa E questo è un golfo Simona Ma tu li porti A correre in pista La pista Ce l'hanno insegnata Anche al corso E' fondamentale E' veramente fondamentale Per insegnargli A cosa A mettersi su strada Proprio Anche se levavi la sella Vedi No lui Non c'è problema Esatto Guarda che agilità Che hanno E ascoltano E devo dire Che comunque Abbiamo dei grandi Che ascoltano Anche se Gli atleti Ascoltano bene Quello che gli diciamo E i risultati Sono arrivati Nel senso Piacevoli Divertenti Ma sono arrivati Abbiamo Guarda che il rapporto Lo instauri bene Con i bambini Perché sei tu Che lo devi creare Perché allora Ti vengono dietro Esatto Devi essere brava tu In quello Perché se stanno crescendo I bambini che avete Quindi vuol dire Che stai lavorando bene Non solo Non solo Dico te Tuoi collaboratori Tuoi colleghi Insomma Assolutamente E di questo Tengo a ringraziare Ancora molto Comunque la famiglia Riverditi Marita e Sergio Che hanno dato L'opportunità Di portare avanti In un periodo Comunque dove Lo sport E comunque Il sacrificio Non viene molto apprezzato Ci credono ancora In queste cose qua Ci hanno dato Questa possibilità Quindi ringrazio Appertamente Sergio e Marita Cosa guardi tu In questi Nei bambini Cosa guardi tu Cosa vai Cerchi di capire Di scoprire Ma io Nei bambini Guardo La voglia Di esplorare E la voglia Di non aver paura Di crescere E di scoprire Nuove cose E di mettere in pratica Quello che comunque Uno dice Ma soprattutto La curiosità Dove i bambini Sono secondo me Esemplari In questo Noi la perdiamo Man mano Che andiamo avanti Con l'età Loro invece La curiosità È fondamentale E importante Il sacrificio Poi lo imparano dopo Però adesso È la voglia Di viverla Questa Però Franco Il discorso Con i genitori Non è facile Assolutamente Perché queste categorie E quelle giovanili Drammatiche Hai il problema Dei genitori Quando crescono E arrivano poi Diciamo Nelle nostre categorie Il problema Del marito Del fidanzato C'è sempre Bisogna cercare Un po' Perché a livello A livello maschile No Ma a livello femminile Si accentuano Queste cose No Cioè con le ragazze Però i genitori Sono Non dico Ma perché lì Subentra Il volere Il volere Il volere cosa A questo livello È la gioia Il gioco Il lato tecnico Diciamo che la ragazza O la donna Non è che si occupa Come un ragazzo Del mezzo tecnico Allora c'è sempre Chi gli suggerisce una roba A chi gli suggerisce un'altra A me spiace un po' Perché io Quando ho a che fare con le persone Cerco mai di contraddirle Anche quando mi dicono Magari una cosa Che io so perfettamente Che non è giusta Ci giro un po' intorno Ma mai posso dire A una persona No Non si fa così Cioè io odio queste persone Che riescono Che si impongono In questa maniera Perché esiste una psicologia E soprattutto a questi livelli qua Di questi bambini È la psicologia Il cento per cento È solo quello Bisogna un po' Secondarli Poi girarci intorno Poco per volta Uno Far vedere loro Che non era esattamente Giusto così Diciamo che Purtroppo Ci sono due aspetti Di questa situazione C'è l'aspetto Diciamo possessivo Del genitore Che ha paura Il bambino Quando è in strada Insomma Però poi Quando sono tutti insieme Lì dovrebbero essere Liberi di esprimersi Come vogliono Invece mettono Prevale molto Purtroppo sì Quando si tratta Del genitore Diciamo che Tante volte Il genitore Non ha potuto farlo lui E vuole realizzarsi Con le gambe Con il figlio E allora diventa Un po' difficile È una base di partenza Sbagliata Certo Il problema Che dicevamo prima Cioè i ragazzini Diciamo che dall'altro lato C'è anche questa enorme pazienza Dei genitori Perché se non ci fosse Questa enorme pazienza Il ciclismo non esisterà Perché come diceva Marita alla festa Mi è rimasto impresso Che dice Sì noi facciamo i genitori Però sono cinque anni Sei anni Non mi ricordo neanche più Quanto ha detto Che noi tutte le domeniche Non vediamo la domenica Siamo lì E loro sono a questi livelli Qua più le spese Noi partiamo Però è un sacrificio Però bisogna gestirlo bene Questa situazione Bisogna non essere intraprendenti Bisogna lasciare ai direttori sportivi Ai loro allenatori Cioè i loro insegnanti Chiamiamoli insegnanti Perché in fondo È un insegnante Un po' come lasciare la scuola Esatto E non è che Ognuno deve avere i propri ruoli Se c'è una collaborazione È perfetto Perché c'è una collaborazione Per la crescita del bambino Se la collaborazione non c'è C'è un ostacolo Prendiamo di un punto di vista fondamentale Che chi viene danneggiato È il bambino Non noi adulti Noi tutti quelli che si riesce a portare Veramente avanti Esatto Nelle varie categorie Fino ad arrivare Speriamo al professionismo Certo È un successo Assolutamente È quello che deve essere L'obiettivo di chi ha In mano Una situazione di questo genere Diciamo che questa famiglia Riverditi Con la nostra situazione È un po' analoga Con la mia situazione Perché Io mi ricordo Quegli anni là Io non Il ciclismo non ho mai potuto praticarlo E poi alla fine Ci siamo messi con i bambini Abbiamo iniziato lì Ci sono andati avanti Io avevo come loro Avevo le mie figlie Perché è inevitabile Che qualche figlio Ci sia sempre in mezzo E poi diciamo Che la Marina L'Alessia L'Alessia ha smesso prima La Marina Poi ha smesso dopo A 21 anni E poi io mi sono trovato Ormai ad andare avanti Nel giro Perché ormai l'impegno c'è E questa famiglia Riverditi Di Sergio ad esempio Anche Sergio era un buon corridore Ha dovuto smettere Per motivi suoi Familiari Della sua famiglia Che suo papà O è mancato Non ce la faceva più Non ce la faceva più A lui ha dovuto E di conseguenza Anche lui è stato catapultato Con le figlie Dentro al ciclismo Adesso la stella Riverditi Corre con noi Ormai ha finito Praticamente Però loro si trovano Con questa passione A portare avanti Questo discorso Perché se il bambino Ci sta in 5 minuti Me ne sono accorto Sergio lo conosco bene La moglie l'ho conosciuta Lì al castello di Cortanza E marita Che devo dire Persone squisite Persone che amano Se non ami questo sport Non puoi essere così Non puoi essere così Bene Io vi ringrazio intanto Per la vostra presenza Come sempre Simona Spero di vederti presto Altrettanto Di vederti non solo Qui in televisione Ma anche sul campo Su quello che saranno Sarà fatto Le manifestazioni Franco con te Ormai c'è un rapporto Porte aperte Come dire Porte aperte Come si usa dire Sabato e la domenica Torno a farti complimenti Perché veramente Questa trasmissione Io adesso È già la terza volta Che vengo Ma ha qualcosa Dell'incredibile Perché io mi sono trovato A parlare con delle persone Che manco sapevi Che riescono anche A seguirti su internet Ma è una cosa che Sì Proprio come dicevo prima Noi quando facevamo I giovanissimi Non c'erano Queste opportunità qua Adesso Anche per chi vuole Venerci fuori Dall'ambito territoriale Per il nostro Può farlo Grptv.it E ci vedete in tutto il mondo Quindi guardateci Grptv.it E ci guardate Andate su grp1 Cliccate E alle 20 Ci guardate Naturalmente in diretta Grazie Grazie a Franco E a Simona Grazie a voi Che ci avete seguito da casa Appuntamento a lunedì Naturalmente con un'altra settimana Che si aprirà All'insegna Della federazione Questo programma è stato offerto da Tre Colli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti